Oggi preparo con voi le costine di maiali in padella alla birra, una ricetta tanto facile quanto gustosa, facciamolo insieme! Subito in padella mettiamo le costine a rosolare su tutti i lati fin quando saranno belle dorate ma non bruciate, eccole qui, se volete potete anche marinarle nella birra per 10-12 ore, io non l'ho fatto perché voglio rendere semplicissima questa ricetta, fiamma alta, le giriamo man mano che cuociono, ok facciamole stare anche un po' sul grasso in maniera tale che ci stoglierà ancora di più, ma giusto qualche istante e a questo punto mettiamo un po' d'agio che è facoltativo, ci sono stricchette che ho fatto in quattro parti, regoliamo di sale, mettiamo il pepe, aggiungiamo la birra, una birra bionda normalissima tipo la peroni va benissimo, la mettiamo fino a coprire completamente la carne, ok mettiamo a fiamma medio alta e girando di tanto in la carne senza coprire facciamo cuocere, finché la birra si sarà asciugata, giriamole un po' teniamole sempre sotto controllo bene così e continuiamo a far cuocere, mamma mia che profumino ci siamo quasi fatta, ok non è necessario far asciugare più, guardate che bella doratura che hanno queste costine, quindi spengo la fiamma, guardate qua, tenerissima, guardate è squisita, fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su youtube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su segui se siete su facebook, io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito!